Oggi interroghiamo un bel bambino. Nessun volontario? Allora chiamo io. Erika, vieni alla lavagna. Erika, risolvi l'ascano. E' giusto signora maestra mammano? No. Mi può dare un aiutino? E' giusto signora maestra mammano? No. Ti do l'ultimo aiutino. Devi dividere per il numero che indica una coppia. Adesso è giusto. Torna al posto. Ti metto un 6. Adesso voglio vedere se sapete risolvere questo nuovo astano. Sì lo sai e risultate come quello di prima. Brava Erika, hai capito la lezione. Ti meriti 10. E.K. E.K. Grazie a tutti.